sta facendo e poi lo fa diventare, sta facendo un video per ora, se inguaggia a mia mi fa un video se ti inguaggia a tia così, levati, così, non ti piace, inguaggia a qua, inguaggia tutte le cose, il panorama poi per ripremere, lo fa diventare di nuovo tondo, però alzala perché deve inguagrare però lo video stai facendo, non ammaccate niente, non usciate, stai riprendendo tutto, attenzione no, non tocca niente, dai, sta vicino e dire che c'è il serro, ok, anziché fare il zoom e sta vicino fanno questa busta a prendere, queste fotografie, e sta, e sta amore sei bellissimo, amore, non ne farei più, staccavo grazie a tutti